è sempre storto sto cappello signore e signori buona sega benvenuti all'amaro del lunedì c'è lunedì c'è l'amaro questa sera vodka la vodka tipicamente rossa molto buona e questa sera parliamo di Jean Paul Sartre come dicono i francesi o Sartre semplicemente come dicono gli esseri umani normali però se lo dite in francese vi rischiate bene la gola e bisogna riconoscere come tutti sanno Sartre abbiamo un po studiato tutti a scuola no bene o male sia vabbè pochi fa linguistico magari che facendo francese lo studia un po di più ovviamente chi fa filosofia lo studia molto bene ma principalmente è ricordato come un esistenzialismo esistenzialista lui parla dell'esistenzialismo dell'esistenza umana il senso dell'esistenza soliti temi filosofici ovviamente del dualismo ontologico ma c'è in realtà un punto nel suo essere il nulla il suo libro più importante famoso di Jean Paul Sartre ha scritto delle pagine gigantesche su un argomento che invece a me sta molto a cuore a tutti noi sta molto a cuore non a caso è un argomento che spesso è legato proprio al cuore cioè l'amore ebbene si Jean Paul Sartre parlando dell'esistenza parla dell'amore collegando le cose il che è bizzarro perché di solito sono i poeti quelli così romantici da dire l'amore il senso dell'esistenza e invece Jean Paul Sartre esistenzialista ha deciso comunque di unire tra i vari sentimenti ha parlato anche della vergogna di tanti sentimenti umani però ovviamente quando parla dell'amore lo descrive in una maniera così bella che ragazzi non si può non portare nella rubrica dell'amore del lunedì e quindi tuffiamoci a parlare di questo figo dell'amore eccolo qui Jean Paul Sartre una specie di Beppe Marotta della filosofia una roba veramente straordinaria è un grandissimo personaggio l'ho sempre adorato pensate che l'ho portato all'esame di maturità io Jean Paul Sartre va bene ho portato tipo nove autore ho portato Kierkegaard Wilde ho portato un po' tutti ovviamente Tarstoi è il mio idolo eccetera c'è Pirandello però comunque Sartre veramente mi è sempre piaciuto quando ero ragazzino ho letto la nausea sono rimasto scioccato infatti dopo parliamo di alcuni cosa purtroppo non è un equilibrio portata di mano perché sto in pieno trasloco prima ho messo su Instagram comunque questa sera si parla dell'amore ah che bel sentimento il senso della nostra il fulcro il centro della finalità della nostra vita principale e quindi signori così commossi e pieni di voglia di parlare d'amore anche perché in tutti i sensi quando nasce ma anche quando finisce quindi pronti a parlare dell'amore lanciamo la sigla e poi tuffiamoci nella filosofia di Sartre adesso la gola è molto meglio vediamo allora siccome è molto complicato Sartre proviamo a dire le cose fondamentali che ci interessano per questo video dunque secondo Jean Paul Sartre è importantissimo l'unica cosa che c'è da sapere poi il resto vabbè senza approfondire però è una cosa importante il dualismo ontologico di Sartre che cos'è ontologico significa studio dell'essere ma non è importante solo questo ragazzi veramente l'unico portato un po' di pazienza basta sapere questo dopo di che si va sciolti la differenza tra in sé e per sé ora ci sono tanti aspetti su cui congettarci noi magari ci prendiamo soltanto quelli che ci servono per il tema dell'amore ho trovato questa bella scheda riassuntiva sulla differenza allora calcolate che in sé è quello più scadente ok in sé la realtà oggettiva cruda una cosa in sé il microfono in sé mentre invece per sé è quando l'uomo perché tra i vari animali è lui quello dotato di autocoscienza volendo citare Hegel l'autocoscienza e l'uomo è colui in grado di progettare in grado di interpretare in grado di utilizzare attraverso la scienza la filosofia anche semplicemente la poesia cioè semplicemente anche con la poesia la musica e tutte le arti riesce poi a dare un senso ok quindi per sé quello che per me rappresenta questo microfono per voi un microfono per me rappresenta quella cazzata che c'ha le cose comunque leggiamo bene la scheda che magari lo so è molto idiota sto microfono però mi piace allora con il termine essere in sé Sartre indica il mondo la realtà fattuale che non significa quelli che sono strafatti ma nel senso la realtà così com'è ok mentre invece con il termine per sé Sartre indica la coscienza dell'uomo e la sua capacità di autoprogettazione di autocreazione ok quindi la cosa in sé e la cosa invece per sé per me che cosa rappresenta soggettivamente oggettivamente dinanzi all'in sé opaco inerte brutto massiccio sta il per sé cioè la coscienza che è tensione verso possibilità ma anche nulla vuoto di essere potere nientificante per me non è nulla eccetera eccetera da una parte l'essere dall'altra il nulla vabbè qui in realtà stiamo già andando un po' nel senso dell'esistenzialismo la nausea Antoine Canten eccetera eccetera comunque questo è importante conoscere questa cosa perché a questo punto noi non dobbiamo interessarci tutto il tema dell'esistenzialismo dobbiamo parlare dell'amore dobbiamo andare su quelle poche pagine ma stupende in cui Jean-Paul Sartre parlerà di amore e guardate ragazzi è una roba che vi serve pure vi garantisco nella vita o per flertare con una ragazza e conquistare e fare bella figura per far vedere che siete intellettuali anche se poi loro in realtà interessano i soldi però almeno la maggior parte almeno soprattutto quelle che becco però per il re oppure oppure semplicemente per voi stessi così quando prendete un due di picche perlomeno avete una giustificazione ecco che sono pagine molto importanti e allora tutto parte dallo sguardo ora dovevo cercare una bella foto per lo sguardo e ho scelto la Rosasen la meravigliosa fotomatella del clip dei Linkin Park Crawling una delle mie canzoni preferite e bellissima ragazzi uno sguardo che cosa guardate riguardiamo un attimo questo sguardo mio dio quanto è buona questo meraviglioso sguardo della Rosasen o Rososen non so come si pronunci se in norvegis è Rososen perché A A si legge O comunque che cos'è lo sguardo allora lo sguardo è la capacità la possibilità ma soprattutto la libertà di un uomo o di una donna scusa di una donna dotata quindi di libertà di autocoscienza col suo sguardo lei cosa fa guarda gli oggetti e li può oggettivare cioè inizia a guardare gli oggetti e li interpreta da una considerazione la vodka la vodka in sé è vodka ma per me nel momento in cui la guardo è mi ricorda la Russia mi ricorda mi ricorda i miei 20 anni 25 anni perché poi mi sono più lanciato sulla Polonia e poi dopo sulla Romania sull'Ungheria però tra le 20 e 25 la Russia mi ricorda eccetera eccetera quindi il mio sguardo è in grado di guardare un oggetto e dare poi un'interpretazione ma c'è un problema e il problema è questo nel momento in cui un soggetto guarda un oggetto il soggetto interpreta l'oggetto qual è il problema fin qui è normale ma che cosa accade quando un soggetto guarda un altro soggetto lì c'è un problema perché potremmo dire che è una libertà che si prende il lusso di guardare un'altra libertà e decide di oggettivarla perché finché io guardo la vodka da un giudizio guardo il joystick della PlayStation 5 e do un giudizio ma nel momento in cui io mi metto a guardare una ragazza bello brutta che sia io la sto oggettivando cioè io sto qui non è il catcalling che adesso è la moda del momento ma che la ragazza c'è un argomento così che va di moda ma lasciamolo stare in generale anche se do un giudizio positivo o negativo che sia io prendo un'altra donna un'altra libertà un'altra autocoscienza e mi permetto il lusso di trattarla come un oggetto ma non in senso negativo anche se per me è la donna che amo faccio un esempio però comunque io sto dando un giudizio in realtà piccola parentesi a tal proposito c'è un altro argomento importantissimo che tratta Jean Paul Sartre però non trovo la fotografia forse ho dimenticato di piazzarla la piazziamo adesso è questo qui il tema della vergogna è molto importante parlare di questo tema perché in realtà la vergogna è diciamo l'argomento che si collega pieno in questo punto che cosa è la vergogna la vergogna è quel sentimento che nasce nel momento in cui altri sguardi si concentrano su di me che sono un soggetto io sono una libertà ho il diritto di essere quel che sono la mia autocoscienza cioè ma gli altri vogliono darmi un giudizio si prendono il lusso di potermi giudicare ma come cazzo si permettono potremmo dire e quindi la cosa ci dà anche molto fastidio proviamo un senso di vergogna di repulsione di imbarazzo di noia questo può causare anche ad esempio disturbi sociali le affiobie sociali l'ansia sociale cioè non è roba da poco ecco però per quanto riguarda l'amore che cosa dobbiamo portarci a casa è questo semplice ragionamento io guardo una persona questa persona può piacermi può non piacermi ma l'obiettivo finale è che io la considero e ho una considerazione fondamentale voglio che lei provi per me quello che io provo per lei cioè io ho la libertà di guardare questa ragazza e dire mi piace perfetto adesso dovremmo ottenere il gioco inverso e non è facile perché lei è una libertà se io provassi con la violenza minacciandola devi amarmi quella non mi amerebbe mai se io provassi ad esempio con dei sistemi luschi come i soldi oppure potrei che ne so fingere qualcosa del tipo faccio finta cioè chiamo un amico faccio finta che ci organizziamo che di notte lui vuole fare una rapina e io faccio il supereroe che picchio l'amico e quello scappa così lei dice mio dio come sei coraggioso mi hai salvato la vita adesso te la do eccetera eccetera la ricompensa e allora che cosa succede che sono tutti sistemi luschi ma io voglio manipolare la sua libertà o addirittura voglio prendere con violenza la sua libertà non posso farlo il vero amore è quando la libertà è pura più è pura e più amore la sua libertà al massimo della sua purezza al massimo della sua libertà decide di amare me e viceversa guardate che non è facile se ci pensate bene è rarissimo l'amore puro perché a prescindere questi casi che sono super pilotati ho fatto degli esempi così anche brutti soldi violenza però pensateci anche quando ad esempio le coppie stanno insieme sapete perché perché magari sono due solitudini io ho bisogno di stare con una lei ha bisogno di stare con uno ci mettiamo insieme ma non è amore lì è un compromesso è come dire è un come un riempirsi a vicenda ma non è veramente amore no non è proprio quella libertà più un bisogno di stare insieme a volte si sta insieme per vendetta io mi sono appena lasciato e sono incazzato nero voglio far vedere alla mia ex che la mia vita va avanti lo stesso lei uguale ci mettiamo insieme ma non è vero amore stiamo insieme solo per vendicarci dei nostri ex quindi è manipolato dalla presenza dei nostri ex non è libero amore è un amore che comunque è stato schiavizzato dalla presenza degli ex capito quindi è veramente difficile trovare questa purezza soprattutto poi da parte di entrambi già se uno dei due rischia di essere sottomesso a questi giochi automaticamente non è più libero comunque tornando a noi è fondamentale questo discorso della purezza no e quindi questo è semplicemente l'amore per Jean-Paul Sartre quando io che sono un soggetto decido di guardare un'altra persona la oggettivo questo è vero e quindi all'altra persona può dare anche molto fastidio però alla fine esprime un giudizio che questa persona mi piace e spero che le faccia lo stesso come che il ricambi c'è però una parentesi spettacolare sul tema dell'esistenzialismo visto che abbiamo un po' di tempo ed è il seguente ma l'uomo potrebbe sottrarsi a questa sua libertà di giudicare cioè posso io dire ma perché devo andare in giro a cercarmi una ragazza oppure semplicemente a dare un senso alla mia esistenza guardando la natura e dandole un senso un'oggettivazione non voglio mi stanco ecco questa è una cosa stupenda e qui poi il senso in realtà pessimistico potremmo quasi dire di Jean-Paul Sartre no l'uomo è condannato alla sua libertà il che è bizzarro perché è un paradosso però è forte sta cosa l'uomo è condannato alla libertà di dover sfruttare la sua autocoscienza gli animali bene o male un albero un albero faccio un esempio quindi l'albero in sé un albero non è che può pensarci più di tanto l'animale non è che si fa tanti discorsi filosofici a meno che non mi diciate che le Iene hanno appena fatto una facoltà di filosofia in Africa ma per il resto è l'uomo colui dotato di autocoscienza che si fa ste pippe mentali potremmo dire ed è però condannato l'uomo non può farne a meno quindi così come per quanto riguarda l'amore la vergogna altri sentimenti l'uomo è condannato a dover dare un senso alla propria vita io in realtà ho visto vari video anche su su Jean Paul Sartre c'è uno stupendo che vi suggerisco di Francesco Pala è un canale youtube che molto bello parla di solo di esclusivamente di filosofia un video di 30 minuti solo sul Sartre però si concentratosi proprio sul tema dell'amore è l'unico su youtube che si concentra specificatamente su queste poche pagine ma meravigliose scritte sul tema dell'amore e lui cita un altro grandissimo italiano che è Ungaretti il quale proprio si collega benissimo su questo discorso di essere condannati a dover come dire utilizzare la propria autocoscienza sulla celebre poesia natale di Ungaretti che è la seguente non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade ho tanta stanchezza sulle spalle lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata qui non si sente altro che il caldo buono sto con le quattro capriole di fumo del fogolare se ci pensate bene questo è proprio il senso ultimo di questa non voglia slash condanna dell'uomo di dover utilizzare la sua autocoscienza la sua coscienza per sé quando un uomo proprio si stufa no? perché infatti poi alla fine secondo Sartre sono principalmente due i sentimenti che si possono provare quando si è condannati a dover utilizzare la propria autocoscienza il primo è la nausea che ti viene fuori e qui a questo punto mettiamo la fotografia del grande attuale canten che ti viene fuori nel momento in cui ti rendi conto che è impossibile dare un senso a questo mondo perché molte delle cose in realtà un senso non ce l'ha accadono e basta qui però entreremo nel campo dell'astrofilosofia e sono cose che preferirei poi affrontare in seguito soprattutto su un video che sto preparando con preparando quando dico così sembra manco che perdore e arrivo qui cinque minuti prima piazzo quattro foto dentro accendo la camera quindi proprio mentalmente su Alan Goode un grandissimo grandissimo intellettuale che appunto parla di filosofia e di astronomia unendo le cose noi quindi parleremo di quello però ripeto un senso spesso questa vita non c'è non ce l'ha volendo citare anche Vasco Russo io lo so stiamo tutti pensando a lui e poi l'altro sentimento che si può provare è l'angoscia citando anche il buon Kierkegaard quindi in generale Sartre da un lato è bellissimo perché si scrive bellissime parole sull'amore dall'altro però il senso pessimistico dell'esistenzialismo esce fuori anche perché a un certo punto e qui concludo il tema sull'amore accade purtroppo una cosa bruttina alquanto bruttina che è questo è vero che l'amore può dare un senso alla nostra esistenza perché nel momento in cui noi diamo un senso a varie cose ok siamo soddisfatti ma quando riusciamo a trovare l'amore dare un senso all'amore finalmente diamo un senso alla nostra esistenza quindi non possiamo farne a meno soprattutto dell'amore dannazione però succede anche una cosa che a un certo punto l'amore può finire ebbene sì perciò prima parlavo del 2d pic o di altre cose l'amore può finire quando è che finisce quando il mio sguardo nel momento in cui si posa su un altro sguardo anche se precedentemente quella persona per me significava molto all'improvviso quella persona per me non significa più tanto anzi nulla qui dovremmo citare un attimo la canna e il mondo della psicologia che cosa accade in realtà con lo sguardo noi per riuscire a capire chi siamo abbiamo bisogno in realtà di confrontarci con gli sguardi quindi è vero che lo sguardo altrui mi mette un sentimento di imbarazzo vergogna o comunque fastidio ma è l'unico modo che ho per capire chi sono e noi al tempo stesso abbiamo una gerarchia di sguardi una cosa è lo sguardo dei miei genitori con i quali ovviamente posso avere un feedback molto importante no un padre che mi guarda facendo mi mette soddisfazione un padre che mi guarda facendo che delusione mi sto male perché come figlio deludono un padre non è mai il top no eccetera eccetera e quindi oppure ci sono persone un tizio un tizio strano per strada mi guarda così ma cazzo me ne frega a me quello che pensa di me c'è questa gerarchia di sguardi ecco quando noi scegliamo una persona amata quello sguardo diventa per noi il più importante di tutti ma poi può anche capitare dopo qualche anno che all'improvviso quello sguardo per noi non significa più niente addirittura in psicologia si arriva a dire che il bambino già quando è allattato al seno della mamma cerca lo sguardo della mamma cerca l'incrocio e guarda lo sguardo della mamma fa così bambino e quindi noi nasciamo così a un certo punto però quello sguardo che per me era importantissimo perché mi serviva per dare un senso a me stesso non me ne frega più la persona amata adesso mi guarda e può pensare di me quel cacchio che vuole non me ne frega niente è finito l'amore è finito si può cercare di recuperare si può cercare di capire perché qui si entra nel campo della psicologia ma finisce è finito quindi è così che termina l'amore quando quello sguardo non è più importante quindi ripeto è tutto un gioco di sguardi potremmo dire il mio sguardo che cerca una persona ad amare al tempo stesso lo sguardo degli altri che è fondamentale per capire chi sono e questo accade perché l'uomo è una libertà dotata di autocoscienza coscienza per sé e non in sé a questo punto come sapete andiamo sempre a finire su One Piece ma qui ragazzi veramente ho già detto tutto questa cosa è bizzarra perché se ci pensate bene One Piece qui mi rivolgo veramente ai fan del manga è questo è un manga unico no da questo punto di vista perché il finale lo sappiamo sin dall'inizio è tra l'altro il titolo dell'intera opera ma non sappiamo che cos'è che cos'è questo tesoro di nome One Piece che cos'è questo obiettivo di tutti i pirati che vogliono andare a raggiungere questo tesoro in questo manga che per chi non lo sapesse e pensa che il manga è un cartone animato per bambini in realtà il manga è un'opera automaticamente artistica e letteraria tipica del Giappone dove viene studiata anche nelle scuole è un'opera di filosofia a tutti gli effetti il manga soprattutto questi manga poi che si protraggono per anni e anni con delle trame complicatissime sono molto più complicati di tanti libri che abbiamo e allora questo One Piece è un tesoro che nessuno sa che cos'è ma tutti lo vogliono beh ragazzi ma questo non è la libertà di decidere e di interpretare quel tesoro per cui quando un bambino che non sa praticamente nulla del mondo non sa praticamente nulla di quel tesoro decide di lanciarsi sin da piccolo e dire io voglio diventare re dei pirati che cosa significa non lo so voglio diventarlo voglio conquistare quel tesoro che cosa contiene non lo so ma lo voglio conquistare fino al punto quando lui poi dirà per me essere re dei pirati l'uomo più libero si parla di libertà guardate che alla fine il tema della coscienza per sé della libertà e dell'interpretazione che si dà alla propria vita innanzitutto perché tutto questo ripeto è il tema dell'esistenzialismo dare un senso alla propria esistenza l'amore l'amore che ovviamente può essere per una donna in questo caso si parlava principalmente dell'amore ma anche l'amore per un sogno l'amore per un obiettivo l'amore per la musica l'amore per l'arte l'amore in generale anche se però ripeto quando si tratta di amore di un'altra persona sono poi queste due autocoscienze quindi lì è un gioco più complicato nell'altro caso sono forti passioni potremmo dire però in tutti questi casi diamo un senso alla nostra esistenza amore uguale senso all'esistenza ma che bella sta roba e quindi alla fine anche la stessa Raftel è l'ultima isola dove probabilmente c'è il super mega tesoro anche se poi forse non è possibile raggiungerlo perché è rimasto lì o comunque si può raggiungere solo in situazioni complicate però quello poi si vedrà ecco tutto questo ci sono tante persone diverse caratterialmente un bastardo un meschino un eroe un coraggioso un buono un cattivo tutti che vogliono raggiungere questo tesoro ognuno di loro danno interpretazione a questo tesoro no c'è chi per dominare il mondo c'è chi per gioco c'è chi perché ha deciso da libero di volerlo fare lo fa appunto perché sono libero e voglio farlo e nessuno me lo può negare ma perché cazzi miei ecco ognuno lo vuole fare per un motivo forse il migliore è quello del protagonista perché ha deciso una cosa senza farsi troppe pippe mentali che come dovremmo vivere ok da amante della filosofia non dovevo dire questo perché tecnicamente il filosofo è esattamente l'opposto però ci siamo capiti e alla fine chiudendoci il cicchettino di vodka e ringraziando tutti per l'ascolto io vi rimando semplicemente a questo semplice discorso ma voi quando guardate la persona che amate quel tuo sguardo esattamente per voi cosa rappresenta e il vostro sguardo per lei per lui che cosa rappresenta se è qualcosa di liberamente reciproco e importante che da un senso pieno alla vostra esistenza beh signori complimentoni siete tra i pochi che hanno trovato l'amore buonanotte ciao